e viva la primavera che ci porta delle iniziative splendide ci porta dei personaggi splendidi vedete qua maga merletta perché è tutta merletti tutta lazio e frizzi ma tanta tanta sostanza un cuore d'oro veramente una maestria nella cucina per il senza glutine che ha veramente pochi rivali massimo rossi uno dei miei cocchi adoratissimo è sempre presente con generosità e intelligenza dove c'è dove scorre del buon vino potremmo dire e soprattutto vino aretino ovviamente allora andiamo di corsa qua in cucina perché qui abbiamo la nostra maga merletta che ci farà una bella ricetta fancherima e quindi che cos'è è una ricetta semplicissima una ricetta ovviamente senza glutine realizzata con del latte condensato che deve essere certificato per essere considerato senza glutine quindi con la scritta senza glutine in etichetta cosa semplicissima della panna semi montata non zuccherata perché il latte condensato è estremamente zuccherato è già molto zuccherato ci piace la scorza di limone ovviamente il limone non deve essere trattato deve avere una buccia edibile e è scritta in etichetta se è edibile o non edibile e il succo del limone la ricetta è semplicissima basta mescolare tutto mescola tutto perché abbiamo due minuti e poi dobbiamo passare a massimo rossi e questo ovviamente lo sapete è la puntata più breve quella dei suggerimenti veloci veloci per chi non ha molto tempo né per stare alla televisione ma soprattutto per cucinare è vero tu sei diventato un personaggio talmente caro talmente famoso che subito è impossibile non adottare e rifare le tue ricette ma l'idea è di fare comunque ricette semplicissime che siano buonissime sia per i celiaci che per i non celiaci perché è anche normalmente per gli intolleranti questo ad esempio una ricetta senza uova quindi va bene per tutti quando abbiamo amici che vengono alle feste non priviamoli di stare con noi e di mangiare quello che mangiamo noi perché è bellissimo condividere in tutti i sensi certo ma poi ora in questo mondo in cui si parla sempre di intolleranza 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 vogliamo essere propositivi parliamo anche comunque di un di una ricetta di un piatto che è gustoso e non pesante perché questo è molto importante alla fine gli intolleranti sono molto attenti a quello che mangiano perché ne va veramente della loro salute e quindi il rispetto del dell'etichetta del senza glutine è fondamentale ma idem per ora in questo caso c'è non c'è l'uovo quindi ci sono tantissimi bambini anche perché io come maga merletta sto molto attenta all'alimentazione dei bambini ci sono moltissimi bambini che non possono mangiare le uova e quindi perché privarli di ma guardate che carino il costo assolutamente è un costo molto relativo vi voglio dire che certe volte ci sono delle mode per esempio il latte condensato che per tanti anni era stato usato per esempio quando io ero ragazza il latte condensato c'era in ogni famiglia ed era un potremmo dire succedaneo del del latte normale quando che piaceva veramente tanto poi ha avuto un periodo di oscurantismo ora è tornato sulla base anche di ricette etniche che soprattutto sudamericane che lo stanno rivalorizzando dove sempre sempre esistito quindi il dulce de leche per esempio alla base il latte condensato senti io ti vedo tutta questa cosa meraviglia ma dov'è un cucchiaio un cucchiaino eccolo qua guarda io subito qua sentiamo com'è secondo me il badiani te lo copia perché magari sarebbe un onore grande subito ad assaggiarlo vieni questo è semplicissimo è la panna montata che va a stemperare l'estrema dolcezza del latte condensato no un super esperto come lui prego il succo di limone in realtà trasforma la panna in mascarpone perché è una reazione chimica quindi allora vedete la nostra maga belletta ma tu hai per caso un sito dove ti si può seguire perché tu insegni hai un seguito incredibile hai anche una carica che ricopri con molta decisione molto preciso vogliamo dirlo sono la responsabile nazionale per la federazione italiana cuochi nel dipartimento solidarietà ed emergenze per le intolleranze e le alleggi alimentari è stata nei territori appunto dei terremotati due volte aiuta ad organizzare anche eventi ora quando tornerà vorrei avere il tempo di venire anch'io la ricetta l'avete vista mascarpone latte condensato non abbiamo detto le dosi ma più o meno diciamo più o meno pari pari peso ecco scusami panna semi montata no mascarpone latte condensato niente zucchero su qui c'era la scorza di un limone il succo di un limone si può portare comodamente a due tranquillamente benissimo ti abbiamo dato l'ok va bene durante la pubblicità chissà cosa avverrà